Al via la selezione dei dieci cantonieri per garantire la manutenzione delle strade sul territorio provinciale di Teramo. Ma non solo, il presidente della provincia Camillo D'Angelo sottolinea l'impegno dell'ente anche verso la riqualificazione delle scuole con l'idea di creare un vero e proprio campus scolastico. Sì, riteniamo che oltre agli interventi strutturali, quelli dovuti all'emergenza e alluvione sisma, sia importante, anzi fondamentale, restituire e ricostituire la manutenzione ordinaria. I cantonieri erano coloro che guardavano, sorvegliavano e mantenevano quotidianamente le strade, coloro che consentivano alle cunette, quindi una buona utilità di riapertura dell'acqua e del defluimento dell'acqua piovana e soprattutto erano la sorveglianza e coloro che segnalavano le criticità. Quindi agivano, prevenivano gli interventi che poi sono il danneggiamento primario della strada per evitare danneggiamenti più importanti che vanno affrontati in maniera straordinaria. Quanti sono questi nuovi cantonieri? Per il momento 10, in questa prima selezione, ma punteremo almeno ad arrivare a 40 cantonieri, dotandoli di macchinari e attrezzature idonee e adeguate. Un altro aspetto importante per la provincia è quello legato alle scuole. L'idea è proprio quella di creare dei campus scolastici. Sì, sono questi i progetti che abbiamo oggi messo in cantiere. Presenteremo entro il mese di settembre il primo campus scolastico che vedrà il polo tecnico nascere cucito col tessuto urbano della città di Teramo.